che leva cose come è nata questa idea di confrontarsi con l'immagine in questa maniera laterale in qualche modo sempre da un angolo molto marginale grazie, grazie, grazie a continuo mi ha dato questa forza di posare delle questione e mettere in scena e mettere ma famiglia in scena che non parla prima, la camera ha dato questa forza di obbligo e per il caso della c'è un'ocenna, per me, ero in scena, ero in scena, ero in scena e in scena, ero in scena, ero in scena e in scena e in scena, e il è utile di avere questo equilibrio tra l'ocenna e la camera e la camera e per vedere il film E' stato più in posizione del montaggio, di poter comprare un'istoria e vedere un film di nuovo al montaggio, e comprare più, e cercare di construire un'istoria a suo momento. Sì, allora, questo film è nato dopo un processo molto lungo, un processo che ha occupato gli ultimi miei due anni. Avevo bisogno di riprendere nuovamente in mano la telecamera, e ho cercato di farlo, ho cercato di fare cose che prima non potevo fare. Ed è proprio questo che mi ha dato la forza di pormi delle domande, e di porle anche alla mia famiglia. Ho messo proprio la mia famiglia di fronte alla telecamera per parlare di questo argomento. E per me in questo senso l'inquadratura è stato un fattore importante. Avevo bisogno innanzitutto di fare un passo indietro rispetto alle cose, ed ero al contempo sia all'interno dell'inquadratura che al di fuori. Quindi cercavo un equilibrio tra l'essere al centro dell'immagine, ma starne anche al di fuori. E questo processo poi ho rivisto anche in fase di montaggio, quando ho cercato appunto di rivedere come funzionavano le cose, se funzionavano bene. A proposito della fase di montaggio, questa ossessione di tua madre per appunto una normalità nella tua vita è in qualche modo veicolata dal montaggio o nel discorso quotidiano è così tanto presente? Non, ma madre è sempre presente, soprattutto con il processo del film. E noi siamo andati nella mia famiglia. E questo questione che voi vedete è condensato di un'intervista quotidiana che è stata fatta in un'ora. E queste discussione che mi ha avuto, soprattutto dopo che la sorella s'est maria. E tutte queste discussione, tutte queste intervistiche, e io che ho capito con la camera, e in una montagna, io vedo le contraddiction. Io vedo anche un'altra cosa che mi ha detto, e in un'altra cosa che mi ha detto, e in un'altra cosa che mi ha detto che mi ha detto, Grazie a tutti. Grazie a tutti. E in quel momento ho cercato di pormi e di fare più domande ed è proprio questo che mi ha consentito di vedere anche qual era il cambiamento che era in corso. Avete domande al pubblico? Grazie a tutti. 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 e poi affrontare la tematica di come passare la propria vita con qualcuno che si vuole bene. Perciò è stato molto importante produrre questo tipo di film per tutte le persone che si ritrovano in questa situazione. È vero che la famiglia di Nicolai è una famiglia progressista, ma è una storia che ha bisogno di essere raccontata per tutte invece quelle altre persone che hanno difficoltà a parlare di questo argomento. Mi sentite? Funziona il microfono. Io lancio sempre la palla al pubblico. Andrea? Quali question? Ecco, da questo punto di vista è molto interessante il fatto che nel materiale di repertorio, nei film di famiglia che tu adoperi, le messe in scena che facevate da bambini erano tutte molto normative. Erano tutte un uomo, una donna, il matrimonio. Ecco, come hai costruito anche il contrasto rispetto a quelle immagini? Sono anche delle immagini, per essere dei film di famiglia, molto curate, molto studiate. Ecco, anche in quel caso di panchia ci sia un contrasto forte invece con la incidentalità delle immagini nuove. Non, ecco, ecco. Non, ecco. Ecco, ecco. Ecco, ecco. Ecco, ecco. Ecco, ecco. Ecco, ecco. Ogni adesso. Andiamo. ischen dei personaggi, in voglia del passi. Per me, questa fiction è un genre di documentare senza realità. C'est-à-dire di mettere questo, e di vedere il passaggio, e di dare una dimensione per tutti i personaggi, e ma sore, soprattutto. E di vedere, in voglia del passaggio, a renduto i personaggi più presenti, ma madre e mia sore, dei personaggi più ficti, come in un film di fiction. E il caso che io ho preso, c'era un desenco dove io metta la camera in la casa. È una parte della casa. È anche invisibile, qualche volta. E è quello che ha dato questa realità nel film. E mia sore e mia sore, hanno messo la mia sorella a la camera. E con il tempo, possiamo parlare senza pensare a la camera. C'è per questo. E io mi piace molto filmare. E io mi pensare, soprattutto. E è quello che ha dato questo mix con un buon, un fuor contenuto, un'immagine che racconta, in stesso tempo, si confonde. Sì, allora, queste storie che abbiamo girato, quando eravamo bambini, le abbiamo girate a partire da 12 anni. E a dire il vero, avevo un archivio di tutti questi filmati, di cui mi ero completamente dimenticato. Ed è stato proprio nella fase di montaggio che ho aperto l'archivio. E ho scoperto il suo contenuto. E a partire da quel momento, ho cominciato a creare una relazione con tutte le storie che erano presenti all'interno dell'archivio. E l'archivio, in un certo qual modo, ha dato una nuova dimensione ai miei personaggi. E quindi questo contrasto tra passato, presente, le immagini di mia madre, di mia sorella, le mie immagini, e il loro contrasto con gli archivi del passato, hanno fatto sì che tutti i nostri personaggi fossero un po' personaggi di finzione. Per quanto riguarda invece la telecamera, a volte si trattava di una telecamera invisibile. Io la ponevo in diversi punti della casa. Ed è questo proprio, forse, che ha donato anche questo tipo di qualità al film. La telecamera è sempre stata presente nella nostra famiglia, quindi mia madre e mia sorella erano abituate a vederla. Però è anche grazie comunque al contrasto tra passato e presente e il posizionamento della telecamera che sono nati i personaggi un po' di finzione di questo film. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Stereotypes, homme, femme, séduction, amore, mariage. E voilà, on a grandi avec ça. Donc même quand on essayait de refaire notre propre film ou ce qu'on essayait de créer, ça venait des inspirations, des choses avec lesquelles on a grandi. C'est un peu de matrimonio, de l'amour. C'est une question très facile de reconnaître pour les personnes de notre génération. Parce que nous avons créé une culture popolique, spécialement dans la télévision, dans les films, mais aussi dans les films. La chanson que vous avez vu à la fin, c'est une chanson très conocée de notre adolescence. Et tous ces matériaux présentent ce stéréotypes de l'homme, d'homme, de l'homme, de l'amour, de l'amour, de l'amour. Et donc nous sommes vraiment créés all'interno de ce type de culture et c'est une culture toujours présente au moment de la réalisation du film. Je vous remercie. Je vous remercie. Purtrochement, nous allons libérer la Sala pour la prochaine prochaine. Sala Sala